Una sanità pubblica in emergenza per cui serve un piano di rilancio attraverso un patto politico e sociale che superi divisioni ideologiche e avvicendamenti tra governi. È il focus del settimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Ne parliamo con il Presidente Nino Cartabellotta. Allora Presidente, il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla presentazione del vostro rapporto in Senato a Roma ha usato parole molto precise. Definisce il vostro rapporto una sollecitazione all'applicazione dei principi di universalità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione, cito testualmente. Sotto quali aspetti in particolare la nostra sanità è in bilico? Il problema reale è che i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'universalismo, l'equità, l'uguaglianza, quelli che ha citato il Presidente Mattarella, di fatto sono stati traditi. I livelli essenziali di assistenza rimangono sulla carta e aumenta la spesa privata delle famiglie. L'equità e l'uguaglianza di fatto sono state tradite perché oggi abbiamo evidenza di diseguaglianza a tutti i livelli, sia tra regioni, sia nella stessa regione, tra aree urbane, aree rurali, tra diverse fasce socio-economiche della popolazione, addirittura tra uomini e donne. Quindi quei principi fondanti che hanno portato nel 1978 alla legge costitutiva per dare gambe all'articolo 32 della Costituzione oggi di fatto per i cittadini non valgono più e quello che i cittadini vivono tutti i giorni sono esperienze poco gradevoli, quali lista d'attese interminabili, lunga attesa al pronto soccorso, l'aumento della spesa privata, la necessità di migrazione sanitaria, anche l'incapacità e l'impossibilità di accedere alle innovazioni farmacologiche e tecnologiche. Quindi è un momento di grande riflessione sulla tenuta del servizio sanitario perché non è più un problema di addetta ai lavori ma riguarda di fatto 60 milioni di persone. Ecco, due elementi su tutti. Nel 2023 la spesa a carico delle famiglie aumenta a fronte di una sostanziale stabilità della spesa sanitaria pubblica. Dall'altra parte crolla la spesa per i servizi di prevenzione delle malattie. Ci può inquadrare con i numeri, con le percentuali, questi fenomeni che gravano sulle nostre famiglie? I numeri parlano chiaro, sono i dati Istat che ci dicono che nel 2023 rispetto al 2022 la spesa sanitaria totale è aumentata di poco più di 4 miliardi ma di fatto è aumentata prevalentemente a carico della spesa delle famiglie più il 10% rispetto all'anno precedente e anche della spesa intermediata da fondi di assicurazione, mentre la spesa pubblica è rimasta stabile. Quindi di fatto significa che i bisogni sono aumentati ma sono i cittadini a utilizzare le proprie tasche, i propri soldi per poter pagare le prestazioni. Tra l'altro è utile ribadire che questa cifra di circa 40 miliardi di spesa auto pocket finisce per essere arginata da fenomeni di cui si discute poco. Il fatto che le famiglie non hanno spesso denaro per poter pagare spese per la salute, quindi hanno ridotto le spese per la salute, che durante alcuni periodi dell'anno non riescono a sostenere queste spese e soprattutto il fenomeno di rinuncia alle cure che riguarda il 4,5% della popolazione e che per circa la metà è dovuto a ragioni economiche. Quindi se tutte queste persone potessero spendere noi avremmo una spesa auto pocket molto molto più elevata. E intanto l'Italia con il piano nazionale di ripresa e resilienza ha ricevuto per la sanità oltre 15 miliardi di euro. Dobbiamo capire però quanto queste risorse riescono a impattare in termini di sostenibilità sulla servizio sanitario nazionale, cioè capire quanto si riesca a utilizzare queste risorse a integrazione anche delle carenze che attualmente anche Fondazione Gimbe sta denunciando. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nella missione salute, rappresenta sicuramente una grande opportunità per rilanciare il servizio sanitario nazionale, ma nelle nostre valutazioni deve essere inserito in un piano di rafforzamento globale della sanità pubblica, cioè non può rappresentare la stampella di un servizio sanitario claudicante, anche perché al di là della cifra assoluta che potrebbe sembrare importante, più di 15 miliardi, questi sono spalmati in 5 anni, periodo durante il quale noi spendiamo circa 650 miliardi di spesa pubblica, quindi in termini complessivi si tratta di poche risorse che tra l'altro come sappiamo finanziano soltanto le strutture, le tecnologie, ma non il personale. Oggi noi siamo sostanzialmente in linea con le scadenze europee, però effettuata quella che è un po' la messa a terra del PNRR, si stanno cominciando a verificare delle diseguaglianze che attengono i diversi servizi sanitari regionali, che ovviamente non partendo tutti dalla stessa linea, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, si stanno verificando dei ritardi che rischiano ovviamente di riflettersi sulle performance nazionali e quindi di raggiungere i target nei prossimi due anni, perché il giugno del 2026 è proprio dietro l'angolo. Ma torniamo alle parole del presidente Sergio Mattarella, sempre nel suo messaggio in occasione della presentazione del rapporto della Fondazione Gimbe 2024, indica come necessaria la costante adozione di misure sinergiche da parte di tutti gli attori coinvolti. Cosa è mancato fino ad oggi e cosa occorre fare? Quello che noi abbiamo riportato insieme a quello che è il piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, che è di fatto qualcosa che riguarda aspetti tecnici, è invocare un nuovo patto politico e sociale, perché oggi la politica nel senso più ampio del termine, quindi non legata al governo attuale, ma indipendentemente dall'avvicinamento di governi, piuttosto che delle ideologie partitiche, dovrebbe riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista rinunciabile dei cittadini italiani, è uno strumento di coesione sociale, ma è anche una grande leva di sviluppo economico del Paese. In questo patto è evidente che bisogna da un lato rilanciare il finanziamento pubblico, dall'altro mettere in campo una serie di riforme coraggiose, perché riforme senza finanziamenti sappiamo che poi di fatto non cambiano nulla, ma aumentare il finanziamento senza avere una chiara idea dove portare alla sanità pubblica rischia di fare perdere mille rivoli quelli che sono i soldi pubblici. È chiaro che all'interno di questo patto, e questo credo che intendesse il Presidente Mattarella, bisogna riallineare un po' gli interessi di tutti. Ci vuole una collaborazione da parte dei cittadini che devono da un lato rivalutare l'importanza sociale del Servizio Sanitario Nazionale, farne anche un utilizzo consapevole e informato, ma anche di tutti gli stakeholder della sanità che devono rinunciare a privilegi acquisiti di categoria magari nel corso degli anni, perché dobbiamo salvare il bene comune. Questo credo che sia un sovere civico che riguarda tutte le 60 milioni di persone di cui si prende cura il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie.